E' una giornata importante perché oggi diamo davvero efficacia e contezza all'importanza strategica di un controllo di gestione. Una parte fondamentale all'interno dello staff che fa analisi di ciò che si produce, quindi una sorta di controllo interno per sapere e per avere contezza di dove ci si trova e dove poter arrivare e come poter arrivare lì dove noi vogliamo arrivare. Quindi diciamo che è una struttura fondamentale e questa è la motivazione per la quale abbiamo voluto dare importanza a questa giornata, proprio per far entrare nella mentalità delle persone, non solo delle persone che lavorano nell'ASREM ma anche per la popolazione, di quanto importante sia questa struttura. Insomma un aiuto all'ASREM e una valutazione verifica anche alla popolazione di ciò che si fa e di ciò che si andrà a fare. Ecco, valutazione verifica, soprattutto parliamo di conti, ecco i conti dell'ASREM come cominciano ad essere. Sì, intanto dobbiamo fare l'analisi dei conti per sapere quanto spendiamo, dove spendiamo e che cosa dobbiamo comprare poi. E noi dobbiamo comprare ciò che necessita ovviamente alla popolazione molisana in termini di salute. Quindi avere questo controllo di gestione sarà una verifica e un controllo interno per sapere in qualsiasi momento noi cosa produciamo, quanto spendiamo e quando dobbiamo invece investire. Quindi investire in sanità e in salute ovviamente.